Ci avevo vent'anni e adesso l'azienda lei mi è stato dedicato, comunità tutta familiare? Tutta familiare, ma è schietta la famiglia. Buongiorno, buongiorno a tutti, buon lavoro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Presidente, il totale del fattore, nello specifico parla un 200% ma è sempre nel settore delle casse. Il totale del fattore, sono sicuro che non vogliono avere unione, facciamo un po' più in maniera che non vogliono avere un'attività, ma sono qua in distanza. Buongiorno, salvo. Buongiorno, salve. Molto lieto, buon lavoro. Ma l'alternanza scuola-lavoro quindi potrebbe aiutare? Alla grande. È una delle cose che... Noi adesso l'abbiamo nella delega. Io vi dirò anche qualcosa in tazzo, perché è fondamentale ed è fantastica l'idea dell'attività. Il messaggio era... Ecco, non ho ricordato che dal momento del Giobatt abbiamo attivato 49 nuove assunzioni, 10 l'avremmo fatte anche oggi, ma siamo stati a preparare con qualche altra cosa, quindi li faremo domani. A fine anno ne contiamo di portare a bordo altre 40, quindi un esercizio in un anno, circa 100 risorse. Voglio ringraziare a nome di tutti i miei assunti con il Jobsat, per ringraziare la Valter Tosto che ci ha offerto questa preziosissima opportunità di entrare a far parte di una squadra che lavora veramente a livello internazionale, quindi siamo orgogliosi, soprattutto del fatto che questa realtà si trova qui in Abruzzo, nel nostro territorio. Grazie. Se c'è una cosa che ci stupisce nell'Italia è la qualità dei propri prodotti. Donne e uomini che all'ombra dei campanili, diceva qualcuno, hanno fatto meraviglie, che hanno dato lezioni al mondo di qualità delle opere. Bene, oggi noi siamo qui esattamente per dire grazie a chi come voi ci rende orgogliosi del proprio lavoro e grazie a chi questa opera continuerà a proseguirla nel tempo con intensità, passione e determinazione. Viva la Valter Tosto, viva l'Abruzzo, viva l'Italia!